Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, rivelazione inedita su Cecilia, scopro una verità che dentro di me già sapevo. Francesco Monte ospite di Maurizio Costanzo Show, le nuove dichiarazioni su Cecilia Rodriguez. Francesco Monte è tornato in tv per parlare della storia finita male con Cecilia Rodriguez. Questa volta ha scelto il salotto del Maurizio Costanzo Show, dove ha condiviso la scena con lex cognato Stefano De Martino. Lex tronista di Uomini e Donne prima di rilasciare nuove dichiarazioni sulla sorella di Belenci ha tenuto a precisare che era intenzionato a stare lontano dal mondo dello spettacolo ma è stato impossibile rifiutare la chiamata del marito di Maria De Filippi. . E sul palco dello storico programma televisivo Francesco si è lasciato andare ad una confessione mai fatta prima d'ora sulla sua lunga storia d'amore con l'Argentina. . Pur essendo ancora innamorato, pur avendo dei progetti in cantiere con la giovane modella, Monte ha rivelato che non tutto filava così bene. . . Scopro una verità che dentro di me già sapevo ha fatto sapere Francesco a Maurizio Costanzo. . C'erano dunque davvero problemi con Cecilia già prima della partecipazione al Grande Fratello Vip? La frase di Monte è alquanto confusa, soprattutto perché successivamente ha parlato di un rapporto consolidato. . . È davvero così o il giovane Tarantino si è ormai arreso davanti all'evidenza e alle spiegazioni della piccola Rodrigueda? Quest'ultima, all'interno del reality show, ha più volte svelato di essersi guardata dentro e di aver capito di non essere più innamorata del fidanzato. . 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